ciao ragazzi da melix game ben ritrovati questa è la seconda puntata di life is strange before the storm benissimo prima di iniziare e non vedo l'ora devo fare two saluti ovvero un ragazzo carinissimo che mi ha scritto un messaggio in pagina pagina facebook melix game si chiama lo scritto qua scusate foglietto misero ma per non dimenticarmi si chiama giuseppe ravizzone giuseppe un abbraccio grandissimo continua a seguirmi e secondo saluto che non se l'aspetta assolutamente voglio salutare la barista più figa in assoluta in assoluto della bassa padana ovvero luna ciao luna ti voglio bene e saluto anche simone loro due hanno gestiscono un bar si chiama nuovo caffè paradiso guastalla reggio emilia ho fatto anche la pubblicità e ora andiamo col gioco via con la sigla ciao eccoci nella stanza di chloe ragazzi nell'intro mi sono scordata di dirvi che purtroppo la prima puntata si può vedere solo su pc perché ebbene si sono stata segnalata per copyright purtroppo c'era un sacco di musica speriamo che in questa puntata non ce ne sia così tanta dei rituali sono importanti anche quando si involvano scrivano le lettere non scordate ai miei amici che ti ti ho scoperto max finalmente si parla di max allora vediamo qui sono i personaggi che abbiamo incontrato che conosciamo anzi perché max è qui e non l'abbiamo ancora vista siamo all'episodio one ok direi che possiamo uscire abbiamo capito tutto bene cosa dovremmo fare mai c'è un po di casino direi in questa cameretta chloe cara pensiamo di alzarci ecco foto vediamo la foto ecco la mamma di chloe joy firewalk live the skeevi assholes lei sta parlando di rachel ebbene ci cambieremo d'accordo qui abbiamo delle foto da osservare ok papà oh che bell'orcetto che c'è il signor squale dovremmo cambiarci d'abito va bene vediamo nel cassetto cappello cappello da pirata ci vogliamo mettere il cappello vestiti cassetto e si ci mettiamo la maglietta del corvo si the crow se mi segnalano anche questo video per il copyright ma rabbio tantissimo dai stai bene su vai bene così mi piace se vi foste persi la prima puntata ragazzi ricordo si può vedere solo da pc e andiamo da joy merda 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 eh arrivo i messaggi accidente abbiamo perso il cellulare c'è un sabbataggio Andiamo a telefonare sul nostro cellulare per vedere dove l'abbiamo scu... E come facciamo a sapere dove squilla? Eh, ma dovremmo... Come si usa? No, si risponde. C'è, c'è. È in casa. Corriamo. In bagno. Hai scordato in bagno, Chloe? No, qui no. No, qua ci allontaniamo. Qua? Sì, in bagno. Cioè... Cioè... Allora, un nuovo messaggio da mamma, che è Joyce. Elliot. Chi è Elliot? Che ci scrive? So già tutto, va bene? Fa piacere. Chimica, con la K, la K. Va bene. Vediamo il messaggio di mamma. Vieni a casa all'ora che abbiamo concordato. Ci saranno conseguenze, perché abbiamo effettivamente fatto tardi. Chloe, breakfast. Tra il mio percino con te, per favore? Yeah, yeah. Ok. Yeah, yeah. Che dobbiamo fare? Credo che ho visto la mia percino nella sua sala. Ok. Camera di mamma. Lo sa. Anello. La borsa. Sì, e poi? Scendiamo. Proprio una gioia di vivere qui. Dining table, here I come. Qui abbiamo foto. Ok. Chloe, I don't have all day. Would you get over here already? I should see what mom wants before she strokes out. Sì, mamma, posso mangiare prima? Palla di vetro. Palla di vetro, ragazzi, si è visto nel primo episodio di Life is Strange. Little dude's like, what the hell just happened? Vabbè. Io ho sempre odiato le palli di vetro con la neve, giuro. Allora, parliamo con mamma. Sentiamo il ciucchetto. Allora. Stavo dormendo. Scusa, mi sforzerò, dai. Scusa. Scusa. I hear you. I'll do better about replying. Thank you. Is that what you wanted to talk about? What is it with you and David? Always cutting to the chase. Why can't we just have some pleasant conversation before school? Scusa. Ah, right. School. My favorite. Hey David. Let's not fight. I made you breakfast. Nah, I'll just grab something later. Oh, you'll enjoy this. The other day I made four eggs, two for David, two for me. And just before I serve them, he says, what are you gonna eat? I'll enjoy that, huh? Tired, huh? That'll teach you to break curfew. What? I know what time you came home last night. And don't think you can get out of school just because you've missed the bus again. Why would you assume that- Who do you think your principal calls when you skip? Do you think I enjoy lying for you, saying you're sick just so you don't get expelled? Classico chicchetto. Between your grades and your disregard for my rules, I see you slipping. I'm worried. But mom, the whole point of lowering expectations is so you won't be disappointed in me. Never again. You're happy doing what you're doing? Fine. Keep at it. Just let me know so I can stop fighting with Blackwell to keep you on scholarship. money's tight enough as it is. Ho bisogno di essere lasciata in pace. Forse David potrebbe aiutare. Forse David. Maybe David should start paying rent. He spends the night often enough. How would you know? You're never here yourself. David thinks you need discipline. David should mind his own business. I think it's great David taking an interest. He's a good man. Maybe he can help. Papa era un bravo uomo. Papa era un bravo uomo. Forse non lo sapete, ma nella prima puntata... Sì, nello scorso episodio si è saputo che il vero papa di Chloe è morto. Quindi diciamo che papa era un bravo uomo. un po ostile. Sì, comprensiva di come ti senti. La sottoscritta di essere comprensiva non ha nessuna voglia. Io dico sempre ciò che penso e sento. Quindi dico. Dico come ti senti. All I'm asking for is a little respect. Why is that too much? I love you Chloe. I miss you. Nobody could have replaced her father. I did the best I could. Mom. I don't know where I lost you. You didn't lose me. Right. David's waiting. He'll need the keys. They're in that ashtray you made me. Go be his problem now. Bringing David his keys is about the most humiliating thing mom could ask me to do. Ok. Io spero tanto di no, ragazzi. Sì, ma vorrei evitare in questo gioco di piangere tanto come nel primo. Allora, il posacenere è dove sarebbe? Cestino, mucchio di posta. Qua. Forse qua. Macchia di vino. Cos'è questa cosa? We're already supporting one. Thanks. Sì. Non ci interessa. Pianta appassita. TV foto. Cestino. Delle cartacce per ora non ci importa. Mamma, porto cenere? Do sta? Però sta tassina di caffè. Eh, Luna? Come fai tu il caffè? Perché si è perso l'inizio. Sto parlando con la più figa barista della Bassa Reggiana. Sì, ho capito, ma non lo trovo. Ah, ecco. Ah, ecco. Eccolo qua. Prendi le chiavi. Voilà. Cosa dobbiamo leggere sulle chiavi? Lo difenderemo. No point in putting off the inevitable torture of driving to school with David. Sì. Ok, andiamo, andiamo. Non ti preoccupare. Dicevo, c'ha una voglia di vivere sta ragazza che è una cosa... Mi ricorda qualcuno. È arrivato un messaggio. Ed eccolo lì. Guardate la camminata di tutti. No, le chiavi. Fine, come un camionista. No, mam. No, mam. I swear he beat himself to death with a tire iron. Repeatedly. Ehm. Ehm. Did you not hear me? I said I know what it does. Then go grab my socket wrench set from the garage, and we can get moving. What is this? Quality time? Ugh. Better just get the socket wrench and get this over with. Ok. Andiamo. Ah, la depressione sta ragazza. Does he think he's moving in or something? Bene. Allora. Manuali, foto. E prendi Chloe su- 50-50 chance I smash him in the face with this. 60-40. Maybe 90-10. Ok. Tieni. A little more hustle wouldn't have killed you. A little more hustle wouldn't have killed you. See what's gunking up the works there? That's a sign of carbon deposits. Carbon deposits? No shit. You know, you could actually be good at this, if you lost the attitude. My attitude is what makes me special, David. All right. Batti il pugno, fallo aspettare. Dai, batti il pugno. Fine. Whatever. Perché ragazzi, alla fine, David non è un cattivo uomo, eh. Hey, you're taking those tools with you, right? Every house needs a good toolbox. I've already got one, but thanks. È che purtroppo Chloe non accetta, non accetta che, che Joyce, sua mamma, abbia questa relazione con quest'uomo dopo la morte del bello papà. I quedo Charlotte's how it did it now. We had to manage this and ask you to be careful. Okay. I don't have to like each other. But you will respect me. You've enjoyed enough of a vacation from having a father figure. So there's some things I want to be real clear about. Ahaha, wheeze. Joyce, tua madre, she's hurting, Chloe. Hurting for you. You've had it rough, no doubt about it. But all this staying out late, ignoring her command, drinking, drug use. It's making everything harder for her. You need to shape up. Get your act together. And put someone else first for a damn change. Am I making myself clear? Is it crazy if part of what David's saying makes sense to me? Ho capito. Got it. Thanks. We should really get going. Glad we understand each other. Country music? Dad loved this song. I just called it to tell you that I miss you. What a beautiful day. I guess mom left your purse back here. Guys, I think I will already cry in this episode. I know what a spark plug does, Jerkwad. This is the father of Chloe. The hell? Out of the car, Chloe. You're going to be late. Shit. Thanks. Don't use that sarcastic tone with me, young lady. I can see you rolling your eyes. Uh, hello? I was actually saying thank... You're going to see everything. I'll warn everything. Hello, Black Owl. Buongiorno, Incubo. Scuola, uno zaino, una borsa, niente. Un libro. Una penna. Niente. Un libro. Uh, a little. Un libro. Un libro. Un libro. Un libro. Un libro. I mean, people are talking about it. Who exactly is talking shit about me? You know, haters on social media. Great. I wish I could tell everyone to just get a life. So, how about The Tempest? Blackwell Theatre at its most pretentious. Yeah, totally. I know it's going to be lame, but I was thinking... Do you want to go together tomorrow? Ehm, forse. I try to make it a rule not to go to school anymore than I have to. But sitting in the back row and making fun of the drama kids might not suck. Right? That's totally what I was thinking. Alright. See you in chem. Yeah, for sure. Ok. Ragazzi, io terminerai perché non vorrei fare una puntata troppo lunga. E siccome, come ho detto, nella prima puntata mi hanno dato dei problemi per il copyright, terminerai qui onde evitare che ci siano altre musiche. Spero vivamente che vi stia piacendo questo gioco come sta piacendo a me, ma non avevo assolutamente dubbi. Vi saluto tutti, soprattutto Giuseppe Ravizzone, Luna e Simone. Un bacio a tutti ragazzi, non scordate il like al video e ci troviamo nella prossima puntata. Ciao. Ciao.